Alla finale Club San ci sarà Staghi C'è l'invasore, leggilo su Stock Magazine Arriva l'invasore, io vestito da Superman Ho una previsione che fa per te Buona visione allo spettatore Per me 1 a 1 finirà il match Allora, di noi si vede i mondiali per Club Paciuga, il 28 aprile del 2010 Hecarinaji, il 2 maggio del 2010 Alva, il 7 maggio del 2010 Poi abbiamo l'Inter, il 22 maggio del 2010 Poi l'International, il 18 agosto del 2010 Il Seunyam, il 13 novembre del 2010 Chiudono le partecipazioni in Mazzembe Il 13 novembre del 2010 Alla finale Club San ci sarà Staghi C'è l'invasore, leggilo su Stock Magazine Alla finale Club San ci sarà Staghi C'è l'invasore, leggilo su Stock Magazine Arriva l'invasore, io vestito da Superman Ho una previsione che fa per te Buona visione allo spettatore Per me 1 a 1 finirà il match